Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Oggi celebriamo la festa della Beata Vergine Maria del Rosario e siamo chiamati a riscoprire la potenza della preghiera a Maria che libera, che difende dal maligno, che ci aiuta a essere fedeli discepoli. Una festa bella che ci vita a riscoprire la bellezza e la forza del Rosario. In questo giorno di festa della Madonna ci viene proposto un Vangelo molto forte dal capitolo 11 di San Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero, è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse, ogni regno diviso in sé stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in sé stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo e non trovandole dice, ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui. Vi entrano e vi prendono di mora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Gesù ha liberato le persone dal potere del demonio. Ha liberato l'uomo che viveva nei sepolcri riconciliandolo con gli altri suoi fratelli permettendo di ritornare alla vita sana. Ha liberato, si dice, Maria Maddalena da ben sette spiriti impuri che la tenevano dominata, che le impedevano la vita libera. Questa è l'azione di Gesù, un liberatore, uno che riporta serenità. Eppure, nonostante questa azione potente, sanificante, che porta libertà, trova degli oppositori che lo accusano lui, che ha liberato le persone dal demonio, di essere invece un servitore del demonio, di agire in nome di Beelzebul. Il nome Beelzebul era un nome che si dava al capo dei demoni. Veniva storpiato come nome, alla fine poteva significare il signore delle mosche, il signore dell'etave, per prendere come in giro il capo dei demoni. Ma l'accusa, mossa nei confronti di Gesù, è dura. Alla fine lui è un indemoniato, lui agisce con la forza del demonio. Gesù con pacatezza risponde a queste persone. Qui si vede come Gesù tenta sempre di recuperare anche gli avversari e cioè spiega che in fondo è assurdo pensare che il demonio combatta contro se stesso. Vorrei dire allora che il suo regno è diviso, ma se il suo regno è diviso allora sta per cadere. Invece aiuta a interpretare la sua attività. I gesti che lui fa nei confronti degli indemoniati restituendoli alla libertà è il segno chiaro che è arrivato il regno di Dio. Dio comincia a regnare negli animi, non più Satana, ma la libertà di Dio, dei figli di Dio. È arrivato il dito di Dio, cioè l'azione potente di Dio che salva. Ecco questo è il regionamento di Gesù e poi Gesù ne fa anche un'applicazione abbastanza particolare con immagine che ci colpisce e ci aiuta a vedere come avviene questa libertà e come invece questa azione di libertà può essere travisata. Parla in effetti di quando lo spirito impuro esce dall'uomo si aggira per luoghi deserti, poi se non trova un posto dice ritornerò nella mia casa dove ero prima e se la trova libera, spazzata adorna, allora rientra in quella casa lui con altri sette spiriti. Che cosa indica Gesù? Gesù indica che non basta essere liberati dal demonio, così Gesù dice che non basta che la sua azione potente liberi, che anche i suoi discepoli liberino, che Satana sia sconfitto quando i discepoli sono andati in missione e sono ritornati Gesù ha detto vedevo Satana cadere dal cielo perché quando si è liberati, quando si è perdonati dal peccato, l'anima diventa come una casa libera, pulita, però ancora vuota e se rimane vuota, se non viene abitata, lo spirito ritorna. Che cosa indica questa immagine? Indica che quando noi siamo anche perdonati dal Signore, siamo stati battezzati, però abbiamo un rischio di essere come una casa vuota, cioè che non ha un Signore e se non abbiamo un Signore, se non siamo con Lui, ogni nostra azione è destinata a finire male e siamo destinati a ricadere ancora nel dominio del demonio. Dunque colui che è liberato, che è stato chiamato alla fede deve stare molto attento, essere attivo, essere capace di riconoscere Gesù come il suo Signore, a riconoscere che il Regno di Dio è arrivato e quindi Dio va onorato come Re. La vita spirituale non è una vita di ozio, di accidia, di falsa tranquillità, ma deve essere accompagnata dall'impegno di ascoltare Gesù come nostro Maestro, lui deve diventare il padrone in casa nostra, altrimenti il demonio ritorna. Ecco che allora uno può difendersi dall'impegno spirituale accusando il Signore che non ti libera, che non ti aiuta, ma domandati, tu nella tua casa hai fatto entrare il Signore, l'hai fatto diventare il tuo Re, cerchi di camminare secondo la tua volontà. Il Signore oggi ci libera dalla presunzione di una salvezza che non richieda la nostra adesione, che non richieda il nostro impegno. Lui ci libera, ma vuole poi che noi lo riconosciamo come il nostro Signore. Grazie.